C'è una squadra che è pronta per salire sul Puma e rientrare a casa. Vi facciamo vedere in diretta il momento che è di solito. Si parla della prossima battaglia, chiaramente, ma il calcio è bello anche perché le sfide affascinano e dunque, ragazzi che davvero straordinari, sono stati davvero esemplari questa stagione, questo campionato che ancora non si è concluso, c'è la coda dei playoff l'anno scorso, a Giarre si interrompe il cammino dello Scordia con una sconfitta. Quest'anno i playoff sono arrivati, Jonathan Pandolfo oggi si è fatto trovare pronto, davvero straordinario. Allora, Jonathan, due parate importanti, la prima su un marziale, la seconda più difficile, sei sempre pronto, avresti chiaramente in altre squadre giocato da titolare, questo si sa. Adesso subito noi pensiamo a Biancavilla, preparare bene la partita e possiamo andare avanti. Jonathan, te la ricordo in un'ottima intervista che ti ho fatto? Dove eravamo? Da Agropoli. Eravamo ad Agropoli, 0-0. Benissimo, allora la squadra sta per salire sul pullman, l'ultimo di solito a salire sono sempre io, ormai è un gesto scaramantico che qui si fa sempre, naturalmente vi invito domani a leggere sulla Sicilia la cronaca di questa partita, mentre questi momenti davvero di sport, di calcio sono straordinari perché si segue la partita, si segue il dopo partita, si segue la squadra ed è davvero tutto bello e a volte sono davvero straordinariamente felice di seguire questi ragazzi che meritano il massimo dell'attenzione perché si impegnano negli allenamenti, si impegnano ogni giorno e poi vincono.